Un settore in buona salute è quello dell'enoturismo che in Puglia vanta numeri da capogiro ma che in Capitanata stenta a decollare e a non sfruttare il suo potenziale. A Sansevero, una delle capitali pugliesi del vino, si sono riuniti i soci del Movimento Turismo del Vino per cercare di capire perché la provincia di Foggia è fanalino di coda anche in questo. Al tavolo con i produttori Vittoria Cisonno, direttore Movimento Turismo del Vino Puglia, che non ha esitato a lanciare l'ennesimo grido d'allarme. Che cosa non va in provincia di Foggia? Secondo me un po' di fidenza, un po' di non credere nell'opportunità che questo meraviglioso territorio può offrirgli. Noi rappresentiamo tutta l'Italia come Movimento Turismo del Vino. Io mi occupo della Puglia e insieme ai nostri delegati regionali, di cui per la provincia di Foggia, Gian Felice e D'Alfonso del Soso, ci riuniamo periodicamente per cercare di fare operazioni di marketing perché possano crescere i vari territori. Ci siamo riusciti in tutte le province, anche in alcune con grandi difficoltà, anche Taranto che era abbastanza ostile anche prima, Foggia è rimasta indietro. E quindi non ce lo possiamo permettere. Con cantine storiche, con cantine che fanno un vino di grande qualità, bisogna credere in questa iniziativa insieme ai ristoratori, insieme ai produttori di olio, insieme a tutto il mondo dell'enogastronomia, perché dobbiamo tramite la stampa nazionale che già ci segue da vent'anni e che quindi crede tanto nelle nostre iniziative, fare in modo che arrivino più turisti e che durante le manifestazioni che noi organizziamo su questo territorio, ma su tutta la Puglia, su tutta l'Italia, anche la provincia di Foggia abbia la sua visibilità. Quest'anno faremo calici di stelle sul Gargano, proprio per attirare anche un target di consumatori che viene per fare turismo e quindi anche non solo gli addetti e gli appassionati del territorio, ma anche per far venire, per far conoscere i vini della provincia di Foggia agli turisti che vengono nei periodi dei vacanza un po' più, come dire, importanti. Tirata ad orecchie a quei ristoratori, anche stellati della provincia di Foggia, che a tavola propongono vini di altri territori. È vero, non tutti i ristoratori hanno la sensibilità di valorizzare i vini del territorio e questa è una grande negatività, perché se io vado a Montalcino mi fanno bere il Brunello, se io vengo qua devo bere Nero di Troia e Bambino in Bianco.